Tre punti al Nespoli chiudono il campionato a Maranto nella 22esima ed ultima giornata della Serie C Toscana. Mister Pisini manda in campo Antonelli, Tabacco, Baracchi, Calluni, Nappini, Crescioli, Eterini, Torrioli, Banchetti, Tici e Mattiacci. Le padrone di casa partono subito forte, già al decimo arriva il primo squillo con Torrioli che prova il tiro dalla distanza, che termina però fuori dallo specchio della porta. Un minuto dopo la nerazzurra Bonelli prova a sorprendere la difesa retina schiattando sul filo del fuorigioco il pallonetto ai danni di Antonelli, termina però di poco alto. Le due squadre giocano entrambi un primo tempo propositivo ma ad andare in vantaggio è il Pisa che con Biancalana fa l'1-0. Il primo tempo però si conclude in equilibrio dopo la punizione battuta da Mattiacci che colpisce prima la traversa per poi finire dalle parti di Eterini che interviene di testa pareggiando i conti. A inizio ripresa il Pisa rendersi pericoloso ancora su calcio piazzato con Biancalana che impegna Antonelli, la numero 1 a Maranto sventa prima sul palo per poi recuperare il pallone in presa. Mister Pisini interviene sulla formazione e manda in campo Paganini per Torrioli mentre Baracchi si vede mostrare il cartellino giallo. Nei successivi minuti l'Arezzo ci prova con banchetti di testa ma la palla finisce in alto. Il risultato rimane invariato fino al ventesimo quando da una combinazione Serluca-Mattiacci-Teci quest'ultima tira dal limite porta in vantaggio Lea Maranto. Dopo la rete del 2-1 Serluca lascia il posto a Tabacu mentre Zeghini rileva banchetti. Alla mezz'ora doppiazione della neoentrata Zeghini che si vede bloccare il tiro a tu per tu con il portiere per poi tentare la ribattuta dal limite. Rete sfiorata per un soffio ma il terzo sigillo non tarda ad arrivare. Siamo attorno al 35esimo e un gol fotocopia del primo porta allo scorre sul 3-1. Questa volta la punizione la tira Zeghini che è spinta sulla traversa e Aterini di nuovo la spinge nel sacco. Sul finale di gara entra Pieroni ed esce Mattiacci e Aterini lascia il posto a Santini e nel Pisa in traiello per a 6. Ultima azione del match il Pisa trova il 2-3 con pane pinto che buca Antonelli dall'altezza del dischetto. Poi le nerazzurre vanno vicine al pari con Bimbi mentre Zeghini spreca un passaggio di Teci da pochi passi. Si chiude quindi sul 3-2 l'ultima gara della stagione che fotografa l'Arezzo al sesto posto con 32 punti totali. Siena promosso in Serie B e San Mignato retrocesso. Una stagione a metà classifica che lascia un po' di Amaro in bocca ma che conduce l'Amaranto alla prossima stagione di Serie C con una squadra che ha tutte le carte per entrare nel vivo dei giochi.